Di nuovo buongiorno a tutti qui a Solar Expo, siamo in presenza di una azienda vocata alla ecosostenibilità, alla bioedilizia, stiamo parlando appunto di Equilibrium, un'azienda lecchese nata da un anno ma già molto dinamica sul mercato e propositiva. La sua storia è particolare perché appunto sposa l'ecosostenibilità in tutto e per tutto, nascendo da una conversione di un ex cementificio a una fabbrica di prodotti ecosostenibili. Abbiamo qui con noi Alberto Vitali che è il responsabile tecnico dell'azienda e a lui appunto chiediamo come nasce appunto questa azienda e partendo appunto da questa conversione e poi presentando poi l'offerta e le soluzioni che presentate qui a Solar Expo. Sì, ciao Andrea, buongiorno a tutti. Come hai detto tu Equilibrium Bioedilizia è nata un anno fa, abbiamo compiuto un anno da poche settimane. Ci occupiamo principalmente di biodilizia utilizzando due materiali, particolarmente due materiali che sono la canapa e la calce. Come hai detto tu produciamo dei biomattoni composti da questi due materiali, li produciamo in uno stabilimento in provincia di Bergamo che è stato convertito qualche mese fa dalla produzione di manufatti in calcestruzzo a manufatti in canapa e calce. Quindi con delle piccoli accorgimenti diciamo così il sistema produttivo è stato convertito. Da qui poi si possono trasportare, li portiamo in giro un po' per tutta Italia e utilizziamo sempre la calce e la canapa per fare una miscela che può essere gettata in opera e quindi è utilizzata per fare sia cappotti esterni quindi su edifici esistenti o comunque per costruire dei tamponamenti quindi case costruite ex novo quindi tamponamenti di moratura esterne. In che modo? Allora la struttura solitamente portante viene fatta o in legno o comunque in latro cemento o in ferro o quel che si voglia perché i nostri materiali non sono portanti, sono autoportanti ma non sono portanti. Il tamponamento si può costruire, si può formare utilizzando i biomattoni quindi costruendo questo tamponamento ho fatto i biomattoni di diverso spessore a seconda della trasmittanza termica quindi il livello di coibentazione che si vuole raggiungere oppure gettando questa miscela in opera costruendo una casseratura a perdere come se fosse una costruzione diciamo così in calcestruzzo quindi si fa questa casseratura e la miscela viene gettata al suo interno e quindi anche in questo modo si raggiungono gli spessori di muratura necessari per raggiungere i livelli di coibentazione richiesti dall'edificio. Ecco ma la scelta appunto di coniugare calce e canapa da dove nasce e quali sono le caratteristiche intrinseche e i vantaggi di utilizzo appunto di questi due materiali naturali? Allora calce e canapa perché? Perché la canapa è un prodotto vegetale ed è l'unico prodotto diciamo sì la parte della canapa che utilizziamo prima di tutto prima specificare non sono le fibre come viene utilizzata solitamente in altri prodotti a base di canapa ma è la parte legnosa cioè il gambo della canapa una volta sfibrato quindi rimossa la corteccia in poche parole la parte legnosa viene triturata e viene fatto questo trinciato che viene mischiato con la calce ok perché che viene chiamato canapolo il trinciato di canapa è il canapolo il canapolo ha una grande proprietà che è ricchissimo di silice ed è l'unico diciamo così vegetale altamente ricco di silice cosa importante perché questo si combina con l'ossido di calce contenuto nella calce e fa sì che avvenga una trasformazione a livello chimico che porti il canapolo da uno stato vegetale a uno strato minerale in modo tale che diventa ignifigo quindi non brucia è incombustibile e diventa soprattutto inattaccabile da batteri muffe roditori quindi praticamente eterno. Quindi la qualità della vita di chi abita in case fatte in questo modo è sicuramente superiore rispetto al calcestruzzo? Assolutamente sì il calcestruzzo è bandito dalle nostre costruzioni perché la calce è un materiale naturale che si trova in natura quindi in abbondanza mentre il calcestruzzo deve essere lavorato è un materiale che non esiste in natura ha un processo di produzione molto più impattante dal punto di vista ecologico sull'ambiente rispetto alla calce e soprattutto non traspira. Una cosa che non ho detto prima è che il canapolo o meglio il biomattone o comunque la miscela di canapa calce ha tre grandi caratteristiche ha ottimi livelli di coibentazione termica coibentazione acustica e soprattutto è molto igroscopica quindi se costruiamo una muratura utilizzando questo materiale e poi andiamo a chiuderla con un intonaco a base di calce o comunque con un intonaco sintetico e quindi che non permette la traspirabilità e quindi non sfrutti la microscopicità del nostro materiale si ucciderebbe un po' il prodotto per cui è importante utilizzare i prodotti a base di calce sia come elegante per tenere insieme i mattoni sia come intonaci esterni e interni. Ecco la combinazione calce e canapa non è sempre uguale come cambia e in funzione di quali utilizzi cambia la percentuale di utilizzo di uno e l'altra? Allora sì la proporzione varia a seconda dell'utilizzo partiamo dalla miscela la miscela ha una proporzione di canapa e calce di uno a uno questo vuol dire che per un dato volume c'è la stessa quantità di canapa e di calce questo fa sì che la muratura o comunque il cappotto che si va a formare con questo materiale abbia un certo livello di coventazione che è più alto rispetto alla miscela di due a uno questo perché perché in questo caso il rapporto di calce raddoppia cioè ci sono due quantità di calce e una di canapa per un dato volume quindi questa è la miscela che viene utilizzata per esempio per fare i biomattoni questa fa sì che il biomattone abbia più solidità abbia più densità quindi sia più resistenza da un punto di vista meccanico e abbia anche più inerzia termica proprio perché è più è più denso la terza opzione come l'utilizzo della miscela è quella di aumentare la proporzione di calce e portarla 4 a 1 in questo caso viene utilizzata per fare i cosiddetti termo intonaci cioè il rivestimento di muratura esistente esistenti che abbiano problemi di umidità o comunque di problemi di infiltrazioni di acqua il termo intonaco può essere applicato come un normalissimo intonaco proprio perché avendo una quantità di calce più elevata e più elastico e più diciamo così appiccicose quindi si può stendere sulle pareti esistenti come se fosse un normalissimo intonaco col vantaggio che va a migliorare la salubrità del muro perché perché il canapolo utilizzando la sua igroscopicità assorbe l'acqua in eccesso l'umidità in eccesso e in più crea una piccola barriera comunque coibentante naturalmente non sarà coibentante come formare un capote da spessore di 10 centimetri o mettendo un mattone spesso 20 centimetri ma comunque migliora la coibentazione della parete esistente quindi con ridotti spessori parliamo di 3 4 5 centimetri massimo si raggiungono già dei dei notevoli livelli di coibentazione soprattutto di assorbimento dell'umidità esistente ecco tornando appunto la canapa spesso e volentieri viene considerata un materiale bistrattato e molto spesso viene legata solo a un discorso di stupefacenti quando invece la canapa ha un uso molto antico e ha una duttilità di utilizzo molto ampia sbaglio assolutamente sì come detto tu la canapa è utilizzata può essere utilizzata in diversi modi pensa che ha circa 25 mila usi e che va dal farmaceutico all'alimentare al tessile e diciamo il più nuovo quello che è stato scoperto solo negli ultimi 20 anni è quello nell'edilizia proprio perché sono stati scoperti recenti queste grandi caratteristiche del canapolo quindi del legno di canapa e la sua combinazione con materiale come la calce fa sì che venga utilizzato senza problemi e con grandi risultati nell'edilizia vorrei tirare a precisare che siccome ho avuto diverse domande questa mattina qua in fiera la canapa è prodotta anche in italia al contrariamente a quanto si pensi proprio per i motivi che hai detto tu la canapa è legale si può produrre in italia naturalmente deve essere una canapa certificata che abbia dei contenuti di THC cioè il seme abbia dei contenuti di THC quindi la sostanza diciamo così allucinogena sotto lo 0,2% ci sono delle procedure da rispettare ma si può coltivare tranquillamente anche in italia ecco ma voi vi appoggiate a produttori certificati che conoscete oppure come avviene appunto il contatto con il produttore sì noi ci forniamo principalmente da d'asso canapa che la realtà diciamo sì è il consorzio comunque l'associazione che racchiude tutti i produttori di canapa in italia a sede a carmagnola in piemonte e con loro stiamo sviluppando comunque dei macchinari che servono per la produzione di questo trinciato di canapa e per la sua raffinazione quindi portarlo da uno stato di semi lavorato quando il trinciato è ancora mischiato con delle impurità che siano la polveri che siano fibre di canapa a portarlo a uno stato più polverizzato più pulito diciamo così quindi rimostre questa impurità perché andrebbero poi a compromettere l'efficienza le caratteristiche del prodotto finale cioè della miscela di canapa e calci. Ecco ma sul mercato quali sono le state le prime risposte appunto dal settore e mi riferisco in special modo alla bioedilizia e all'edilizia anche in generale della vostra soluzione delle vostre soluzioni? Guarda ti dirò all'inizio è stato un po' duro perché penso quello sia un processo normale per materiali nuovi innovativi che non si conoscono quindi è stata fatta un'ottima campagna di marketing negli ultimi mesi e devo dire che la gente inizia a capire quello che stiamo parlando di quello che produciamo e installiamo anche i tecnici non solo i privati che erano diciamo così le persone con le quali avremmo più scambio fino a qualche mese fa mentre era un pochino più complicato interagire e comunicare quello che facciamo ai tecnici quindi esperti del settore ora sono molto più risposte anche loro a questa nuova tecnologia questi nuovi materiali e più propensi a utilizzarlo tanto che stiamo sviluppando un network di installatori e informatori tecnici un po' in tutta Italia proprio perché ci siamo stati sommersi da richieste riguardo ai nostri prodotti. Un'idea di questo genere presuppone anche una certa ricerca ecco qual è come gioca che ruolo gioca appunto la ricerca nella vostra produzione nelle soluzioni? Sì la ricerca importantissima stiamo collaborando per esempio con Unicalce che è la più grande produttrice di calci idrata in Italia per sviluppare un legante che già utilizziamo prodotto da loro però per migliorarlo e renderlo ancora più efficiente stiamo collaborando col Politecnico di Milano per fare uno sviluppo a 360 gradi sul ciclo di vita della della cannabis o meglio della miscela di canapa e calce cioè dove andiamo a analizzare l'impatto ambientale che ha la produzione del cosiddetto LCA quindi l'I Cycle Assessment dove si analizza le emissioni di CO2 e di energia per la produzione di questi materiali. In più stiamo facendo anche un po' di ricerca e sviluppo con altri produttori di terra cruda che vorremmo abbinare come alternativa a rivestimento all'intonaci di calci ai nostri prodotti però qua siamo ancora in fase di iniziale diciamo così comunque ci stiamo muovendo anche in quel senso. Ecco con l'augurio di una buona prospettiva appunto per questo prodotto ringraziamo e salutiamo Alberto Vitali e ci risentiamo per il prossimo appuntamento sempre qui su Tecneco. Arrivederci Arrivederci